Non sono fidanzata. È successo che, siccome io sono una persona molto sincera, non ammetto che un'altra persona mi dica delle bugie. Un tempo ero più, come si dice, più casta, però ho visto da st'estate che comunque non mi faccio problemi, andavo sempre in giro con la mutanda, tanto voglio dire che non c'è niente da vedere. Il sogno di diventare una top model è nato all'incirca l'età dell'adolescenza. Ho un carattere molto espansivo, esuberante, allegro. Quando mi arrabbio picchio, alzo le mani.